Una tipa mi ha violentato. Ebbene sì, molti anni fa purtroppo sono stato vittima di una violenza sessuale in piena regola. Non è stata una violenza, diciamo così, che mi ha lasciato degli strascichi addosso, però non vi nascondo che mi ha lasciato una grande sofferenza che ancora porto dentro di me. Questa violenza non mi ha creato dei disturbi, ripeto, nel senso che non sono diventato un magliare, non sono un maniaco, non sono una persona che ha delle problematiche di questo tipo. Però non vi nascondo che, effettivamente parlando, questa violenza ha riportato, ha ingenerato e continua a ingenerare in me una profonda sofferenza. Ma adesso vi racconterò che cosa accadde. Ero piccolo, quindi non pensate che si tratti di una violenza sessuale che da poco purtroppo ho avuto, ma questa violenza è stata quando io ero piccolo. I miei genitori ovviamente lavoravano, ok? Quindi non sapendo a chi affidarmi, sono dovuti ricorrere alle cosiddette babysitter. Le babysitter chi sono? Sono ragazze o donne che si prendono cura, dei ragazzini, no? Li controllano, cucinano per loro, fanno un piatto di pasta, li supportano anche in determinati momenti della giornata, se non erro li aiutano a fare i compiti e diciamo che li badano, li controllano, li fanno giocare, no? Eccetera, eccetera. Loro ovviamente furono costretti, in quanto entrambi lavoratori, a mettere in casa, in casa loro, dei babysitter, ok? Io nella mia vita ho sempre avuto tante babysitter, non ho mai avuto una sola babysitter, ok? Tante, diverse, proprio perché i miei genitori hanno sempre lavorato, ok? Che cosa è successo? È successo che trovarono questa babysitter, una delle tante, che a loro ispirò fiducia e ovviamente l'assunsero, no? Quindi diciamo che la fecero, la tenero per me, per controllarmi, per, diciamo così, dare un aiuto, no? In quanto loro lavoravano, va bene? Ecco, questa donna, questa ragazza, con me era gentile, era troppo gentile, era troppo particolarmente affettuosa e pensate che questa ragazza aveva l'abitudine di prendere le mie dolci manine, ero piccolo, ero, attenzione, io avevo forse 5 o 6 anni, se non erro, e di portarle, quindi di portare le mie mani, queste mani che state vedendo, alle sue grazie fisiche. Parliamo principalmente di gambe, includendo la sua parte intima, va bene? Questa ragazza era una bellissima ragazza, va bene? Non era brutta, era una bellissima e sexy ragazza, ok? Il fatto è che però, un bambino non può essere felice da una cosa del genere, qualcuno potrebbe dirmi, ah, beato te, ma beato te, ma se ci fossi stato io sarei stato contentissimo, porca miseria, che felicità, beato te, porco giuda, no, beato te è un cazzo, perché ero piccolo, ok? Un bambino non capisce certe cose, non può capire, non può spingersi a comprenderle. Sì, avevo delle lezioni io, io nel momento in cui questa ragazza portava le mie mani piccole, le mie piccole mani, sulle sue gambe, sulla sua parte intima, io avevo delle lezioni, ok? Furono le prime lezioni che ebbi quando ero piccolo, ok? Non capivo che cosa era quella cosa che mi si crea, ok? Poi ho capito che effettivamente col passare del tempo si trattava di elezione, va bene? Quindi molti bambini in genere non ce l'hanno, io invece già in tenere età avevo le mie elezioni, ok? E tutto questo non è che mi ha scioccato, però un po' mi ha turbato, va bene? Ho percepito un turbamento profondo nel corso della mia esistenza. Anche per quanto riguarda magari il dover fare l'amore con una donna, ogni tanto riscontro della paura, dell'ansia che mi si ingenera in maniera automatica, dal di dentro, ok? Quindi questo già vi fa capire, quindi questo già vi fa comprendere come attualmente io sto vivendo e vivo la mia vita, soprattutto quella intima, soprattutto quella sessuale, ok? Perché comunque mi sento abbastanza in difficoltà, ecco, ogni tanto ho una sorta di magone, di ansia che mi si crea. Ecco, voi immaginatevi nei miei panni e rendetevi conto di quella che è la mia vita, ok? Io non ho paura a manifestare quello che è successo, ve lo sto rappresentando, ok? Non vi nascondo che però per me queste situazioni, quella situazione che si creò fu una situazione abbastanza brutta, ok? Cioè lì per lì non me ne sono accorto, col passare del tempo però me ne sono accorto e ne ho parlato poi a quattro occhi anche con i miei genitori, i quali non sapevano e non hanno mai sospettato nulla, ok? Perché chiaramente loro lavoravano, loro però mi hanno detto perché, mi hanno chiesto perché non ce l'hai detto prima, perché non ce l'hai mai detto, perché io mi sono spinto a 20 anni di età a dire loro quello che accadde quando questa babysitter veniva a casa e ogni tanto, non sempre ma spesso e volentieri, aveva l'abitudine di portare le mie mani, prendere le mie mani, ero piccolo, e portarle al suo corpo, va bene? Questo è quanto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio riflettere, vi lascio capire quello che accadde e soprattutto vi lascio rendere conto di quella che è la situazione attualmente parlando. Iscrivetevi al canale, un saluto caro e al prossimo video.